Davide Capparini, stanno arrivando questi cosiddetti canoni speciali, innanzitutto che cosa sono? La RAI chiede ai commercianti, agli imprenditori, a chiunque abbia un'attività in cui è previsto l'utilizzo di un personal computer, chiede di pagare un abbonamento speciale della RAI che varia dai 200 a oltre euro all'anno. Una richiesta che è assolutamente infondata, al punto tale che lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che bisogna pagare il canone RAI solo se il personal computer o comunque lo smartphone che hai in ufficio o hai nell'impresa è collegato a un sintonizzatore e quindi è assimilabile a un malissimo apparecchio televisivo. Dato che i nostri imprenditori commerciali e tigiani usano il personal computer non per guardare la televisione ma per lavorare è ovvio che non devono pagare nulla. La RAI ci prova, manda questo bollettino, questa richiesta di sottoscrizione e tutti, ma dico tutti, devono prendere quel bollettino e strapparlo perché non vale nulla, non va pagato.